ChocoWay Sport, Ciotoli, vincitore del campionato italiano ragazzi, quest'oggi singolo Ciotoli, Mugnai e Battilana, attenzione, se la giocano con quelli di Ariago, attenzione perché qui veramente... Vai ragazzi! E' un'altra squadra, direi abbastanza forte, quella della ChocoWay Sport, che è rappresentata da Minoli e Simone, Minoli e Ricali, due gimelli e la nata vittoria che l'anno scorso nella categoria ragazzi hanno praticamente straguito tutte le gare in corso, li vediamo arrivare, attenzione! Prego in sasso, rallentano, vediamo il loro tempo, vediamo un attimo il tempo di questa squadra genovese che ha portato due atleti l'anno scorso ai primi posti.